Bambino! Signore, la nave è stata abordata da una specie di mostro! Quello non è un mostro! Quello è un uomo che indossa le spalline! C'è un solo super cattivo con un gusto così antiquato! Balthazar Pratt! Accidenti, c'è il diamante di Mon su quella nave! Voglio un intervento immediato di tutti gli agenti in zona! Siamo già qui, gli agenti Gruzi in avvicinamento! Sì! Aspetta, cosa? Come si è chiamati? Gruzi, sai? Gru e Lusi mescolati insieme! Provalo! Mi piace, ma non troppo! Non mi piace! Servo! A terra! Oh Eh? Ci vamo troppo tardi, grufe! Cosa? Ha scappato! Mi piacerebbe! Non credo che ce la faremo, gru! Ce la faremo! Ce la faremo! Pronti! Pronti per cosa? Ehi, come va? Tutto bene? Bella! Siete così carini! Prendilo, gru gru! Ciao, gru! Come va la tua trasformazione? Da peggior cattivo del mondo a peggior... Agente del mondo! Oh, esilarante! Dovresti recitare in tv! Oh, ma è così! L'hai fatto! Ma poi si è stato cancellato! Guarda un po'! Cosa? Ragazze! Duello dance! U. Ah-ah! Siamo dai! S. Quadra Alfa! Il diamante è sicuro! Venite a ritirare il pacco! Ricevuto. Squadra Alpha in arrivo. Roo! Pensavi davvero che fossi svenuto? Si chiama recitazione, spiegato. E come vedi, ho ancora tanto! Sono un bambino cattivo! From this girl! Via, via, via! Non finisce qui, Gru! Mi hai sentito? Non finisce qui! Sì, però il diamante ce l'ho ancora io! Happy birthday! Happy birthday, caro Dan! Happy birthday to you! Eh, la macunga? Sì! Toda! Toda la macunga!